Allora dove sei? Ma non servono a niente i lapislazoli Se tu passavi da un'altra porta trovavi dei diamanti Ma io li voglio Dipende in che porta vuoi Perché alla fine volevo metterci l'arena Così se uno passava da una porta in cui c'era l'oro Aveva gli oggetti d'oro Se uno passava dalla porta in cui c'erano diamanti Aveva gli oggetti di diamanti 3, 2, 1 E vabbè posso anche partire dopo tanto Tanto Hashtag tanto ormai E' troppo easy Hashtag succede Mamma mia oggi è partita con un hashtag 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 Oddio Cosa mi fai fare? Cosa mi fai fare? Ma l'hai voluta tu fare questa mappa Mica io Oddio Ma perchè ho portato questa mappa? Potevamo fare il cazzeggio con i porti No Ok Dovevo cambiare la skin e non avevo voglia Ok? Non c'avevo voglia Ma portati mamma Ma io anche ero la mappa Oddio ho fatto un salto di tipo 6 blocchi qualcosa del genere E poi l'ho fatto da 7 E io ho fatto un salto da 8 E vabbè arriva Rilancio a 9 Perchè io offro di più Perchè io offro di più Rilancio a 10 Hai fatto un salto da 10 Adesso ti faccio un parco con 15 blocchi Ma sei morto? Si sono morto Si sono morto Ah Perchè io ho Ho provato un po' Ho provato un po' Ok Ok Pollo moment Pollo moment Pollo moment di delire Aspetta a te Ma perchè cado qui adesso? Pollo 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 Qualcuno ha fatto veramente il kokkok Sì, l'ho fatto io, l'ho fatto un po' l'hai fatto, c'è tipo una voce di sottofondo che ha fatto un po' il cocco Allora, c'ha le voci di sottofondo, vado a te Sì, sono un gazzista verso le voci di sottofondo No, può avere le voci di sottofondo Sono un gazzista Ma, chi ce l'ha messo il blocco di vetro male? Tu? Ma io non ci ho messo un cavolo da Dopo ci andiamo Ma dove? Andiamo, allora, soggetto, predicato verbale, complemento indicato dall'indicazione Oh no, sta piove Adesso è arrivata la pioggia, te Io da mezz'ora sto giocando con la pioggia Mamma mia, ok, sono Allora, sono caduto qui, quindi posso Ok, 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 sono tornato qui Ok, ti vedo, ti vedo Vai, vai, vai Ma perché tu dove sei? Qui Eh? Eee? Eh? Non lo devi Eh? No, oh, oh, guai Oddio! No! Aspetta! No! Aspetta! Stavo ridendo come un deficiente in un modo assurdo Ecco si impari a fare il babano mondano Slash game mod 0 No, 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 non si citta Non si citta la propria mappa Hai capito? Capito ogni tanto di cadere anche i pro Oh ma te inizi da qui? Inizio da vicino all'era Vabbè uguale No, abbiamo 100 blocchi di dettaglio 100 blocchi Adesso Guarda, guarda qui dove sei No, sono da nessuna parte Ma Ma che Ma questo non vale Questo è successo Non ti ho fatto niente Questo non, se non posso una manovaggia Non ti ho fatto niente La 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 No L'hai fatto tu eh Perchè non eri survival No, perchè sei in creative No, no, no Ora siamo in creative No, no, non sei in creative Oh, mello, mello, mello Tiè, 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 muori Ti sei accorto che non sono morto, vero? Ah, vero Eh, aspetta, ora solo cosa fai Grazie No, non vale Dai, non vale Mettiti in survival e giocatela Vai, teletro... No Non vale Allora Facciamola sul serio questa Mettiti in survival Ok 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 Eh, vabbè, uno in testa Allora, 3 Uno Vai Via Ma cosa servono le patch? No, 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 lavati Lai, laschi dal punto Nooo Sei caduto No, non è possibile, diciamo No, vabbè, ma non è possibile Non vale E non vale È tutta colpa di gano È tutta colpa di gano Hashtag colpa di gano Esatto Ma oggi quanti hashtag abbiamo lanciato? Eh, ne abbiamo lanciati Hashtag tanti cento Hashtag tanti cento Hashtag tanti cento Ricordate Tutti nei commenti, eh Tutti Perché sennò non siamo contenti Ok, ora faccio un insert Sì No, io e te che facciamo una mappa su Cioè, aspettate Sono caduto Anch'io Questa adesso non... C'è... No Ho sentito qualcuno urlare qualcosa È la voce di sottoposto Ma io sono razzista Però sulle voce di sottopondo Ho già detto Puzzano Non iniziare di là Oh, guardia Ritorna indietro Ritorna indietro Ritorna indietro Ritorna indietro Vabbè, Mizzica Di due blocchi, quanti saranno? No, eri a cinque blocchi Eh, cinque addirittura Guarda indietro Guarda indietro Guarda indietro Mi vedi? Sfigato Sfigato Dove farai mai No 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 Oh 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 Ti faccio risalire Basta che stai fermo Vai, avvicinati No, no Oh Ah, tu tieni No Ma con quella Ma non vai col no Ma tu non hai no Non prendi no Ma che c'hai l'anti knockback Ma non mi caccio il citto Ma non ce li ho manco No 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 Questa la devo finire No, non lo vincerai tu Amico mio Mi dispiace Le hai vinte due io E mi ritorno No, no Non ti arrendi Tu adesso la finisci Me la fai finire e la finì No, no, no Non mi chillare No, no, no Io sento Senti i tuoi Magari in survival Ok, sono arrivato alla torta Ho vinto La torta Ah, giusto, la torta C'è la torta Giusto, me l'avevo anche dimenticato di mangiarla Si metta in In sync Si mette in creative Per vincere Speciale No, non fanno creative Adesso sei in survival Aspetta, aspetta, aspetta Io i ridenti scherzando ci sono arrivato Aspetta Alla lava Ok Io posso Io posso Io Ma tu dove sei? Alle lava Sta finendo Sono ancora alle lava Vuol dire che è la terza volta che ci arrivo Tu neanche una volta ci sei arrivato Oh, oh, e finisce L'ho finita Tre volte E direi che ho vinto Non sei andato a mangiare la torta Ma ho vinto Ma non bene ho vinto Devi mangiare la torta, non puoi No che sei andato a mangiare la torta Fatto Fatto No, sono arrivato io prima No, sono arrivato io prima No, noo Ti rompo le torte Sto personale va Ora sei bloccato di per sempre Noo Il cuore dietro Noo mamma Bene ragazzi per questo video possa Possare Ma perchè dico sempre possa Ultimamente Di bella ragazzi per questo video non vi possa essere tutto Adesso tengo senza tagli e così vedete la 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 pazzia dove sei C'è un blocco di vetro come hai fatto a trovarlo sto blocco di vetro mentre correvi Ero la sotto si vedeva tutto ora come faccio a rincazzarlo Hai concluso questa mappa la distruggo Questa mappa la ho Va bene bene ragazzi per questo video penso che possa essere tutto un bel saluto Perché deve essere bello il mio saluto da Pola quindi da il tipo La Mona Mister 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 è il mister dell'italia in realtà Bella Fatto Bene E ora e ora guarda guarda cosa succede Guarda Giusto per ricordarti Ma che cacchio Ma no ma doveva morire di stare per te Ma doveva morire di stare per te Ma che cacchio No 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 come che si Vai Come si faceva Ok ce l'ho fatta L'ho ucciso Forse Perché mi hai detto Ho ucciso l'entità Perché non muore lui Ma cosa stai sbaunando Cosa stai sbaunando No basta sbaunare 20 mila di Quanti ender dragon hai sbaunato Credo di averne sbaunato i 10 Tu si 11 12 13 14 15 16 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 17 18 17 18 18 19 Non lo so Sappi che l'hai distrutto a te Non provare Dammi le colpe Perché ho le prove del video Ma ce l'avrà fra Ce l'avrà fra Ok va bene Ciao ragazzi Non so se lo avrò già tagliato Quindi ciao